Siamo effettuando un 10.80, richiesta di supporto Come? Chiedo scusa, dobbiamo andare un attimo in intervento, poi parliamo, grazie Salve Venimo, convergio il 10.80 Mando a 10.20 Aspetta, aspetta Ok, vai Aspetta che te lo aggiorno Ok, allora Facciamo così, andiamo di qua Dai che se vengono di qua li prendiamo Sì, stanno venendo di qua Sì, sì, sì Ok, li intercettiamo, aspetti, facciamo così Vada dritto, dritto, dritto Ok, ok, li intercettiamo No, 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 di qua, di qua, di qua Vai, vai Sì Ok Niente, poi ho provato Vada dritto Vai Sempre dritto Sempre dritto Prima o poi deve girare Vai Sempre dritto Sempre dritto Non gira Sempre dritto Sempre dritto Ora gira Verso di noi Arriva Eccolo Ah, ma sono quelli di prima Fai passare Ah, no, niente Non posso Vai, vai, vai Signore, si fermi Sì, accorti Ti fermi Oh, la madonna Ma lo voleva proprio far volare Ha voluto male Vari Uh, hai visto che trick fa Ma sarà l'expedionetro Ci mando avanti quello, no? Sì, eh Ma se non si avvicina Mo, guarda che trick sa fare questo No, ma poi ci devo stare un po' più dietro Questa macchina Perché frenano Se fanno questa cosa Io non ce la faccio Sì, infatti Facciamo andare avanti loro Un po' dell'altro Vai stradale Mo, so, cazzi Su, se la strada Ma è vero che tempo La loro macchina tiene molto Sì, sì Però Prima Siccome Con la stradale L'ho provata È più veloce Ma è più veloce Più veloce di loro Almeno Il problema di questa macchina È che non frenare Gira pochissimo Sì Ma che altro Che ne sono andate La da Muno Boh Vai, vai Ma scherzi Ma hai perso Ma li hai persi No, no, porco Ce li abbiamo Qui al sinistro Escono, escono Scappano Scappano Hai strattato l'arco Spallano, spallano Vabbè Codice 4 Mi sa di sempre Sì Proseguite tranquillamente Con i medici Sia fermo Alzi le mani No Vai collega Signore La dichiaro in arresto Ha diritto Di rimanere in silenzio Qualsiasi cosa Dirà o farà Potrà essere utilizzata Contro di lei In tribunale Ha diritto Ano avvocato Se non può Permettersene uno Gliene sarà segnato Uno d'ufficio Compresi i suoi diritti No Mi può servire lei Mi può arrestare lei Per favore Sì L'arresto io Però Ha compreso i diritti Sì Ok Allora Vediamo che c'ha Vediamo che c'ha Ma non lo puntai Disarmato Quel povero Cristo Una padella Signore Signore Per piacere Mi serve per fare pistola La padella Non lo fa Te le serve? No L'acciaio E i soldi Sono tre No Tolga tutto quello Che c'ha addosso No 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 Non vuoi No Signore Stia calmo Poi lo puoi ritirare in centrale Non si preoccupi Mi fido della tua parola Che ci fa con la padella? Che ci fa? La pente di no La rompe in capa Attività Bene 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 Perfetto Andiamo